Presentazione oggi al Palazzo Hotel Città di Arco del ricco calendario di conferenze e incontri dal titolo Laico Day. Presentato oggi il calendario di appuntamenti per Laico Day, strumenti e dialoghi per un'emergenza. Quali dialoghi e soprattutto quale emergenza? I dialoghi quest'anno saranno tanti e li affronteremo anche con chi si occupa delle varie tematiche con grandissima esperienza e da anni. I relatori e le relatrici saranno di grandissimo spessore, parleremo del testamento biologico, del fine vita con due persone che hanno vissuto drammaticamente la loro situazione e hanno lottato perché tutti possano avere la libertà di poter scegliere anche come morire e non solo come vivere. Sono Beppino Inglaro che è un nostro socio, Emina Welby. Il 31 proietteremo anche un film dedicato a Pier Giorgio Welby, alla sua vita e alla sua fine e alle difficoltà che ha dovuto affrontare. Discuteremo con la giornalista Giuliana Sgrena, giornalista del Manifesto e autrice di Dio odia alle donne, e Monica Lanfranco, giornalista del Fatto Quotidiano e femminista. Discuteremo di donne e di religioni. Questo difficile connubio e difficile rapporto della difficoltà che appunto hanno le donne di esprimere la propria libertà in contesti dove le religioni sono molto forti, molto radicate e quasi estremizzate. Parleremo di un tema molto delicato, ma secondo noi molto importante, che sarà quello abili al sesso e quindi della sessualità rivolta nell'ambito di disabilità mentali e fisiche. Lo faremo con i ragazzi di Jump di Bologna, lo faremo con due grandi sessuologi, il dottor Maurizio Bossi di Milano e la dottoressa Brugnialti di Rovereto. Sarà un tema delicato, ma che riteniamo essere il punto focale di quest'anno dell'edizione. Parleremo anche di rapporto social, bufale. Ne stanno discutendo anche a livello parlamentare con la campagna della Presidente della Camera Boldrini e proprio insieme a uno degli autori di Misinformation e il nostro Vice Presidente Alex Schuster discuteremo della difficoltà di affrontare tematiche importanti attraverso proprio i social network. E in più, la cosa più importante, non saremo soli. I laici hanno deciso di stare insieme con le associazioni che si battono da anni sui diritti delle donne, i diritti di tutte e di tutti e lo faremo con 22 associazioni che hanno aderito al nostro progetto. Sarà una due giorni molto bella, molto impegnativa, che come obiettivo ha quello di rendere i cittadini e le cittadine sempre più consapevoli di loro stessi, della loro vita e dei loro diritti.